Per i santi non abbiamo fatto con noi i nostri siti, per cui al termine della serata ci sarà a vostra destra, a vostra disposizione, vi salutiamo con un clino degli Alpini il 23 e vi naturalmente vi invitiamo a contare a Silvia Naudi. A nome del pro sezionale Naudi nel gruppo di Fudora, con voi un grazie di cuore per i vostri applausi e buon proseguimento, buon Natale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.